Beh, fatele qualcosa tutti in te. Lasciate che vediamo che si sa fare. E stavolviamo le discipline dalle serenze. Cari mera, cari spera, cantati una po' di sera. Cari mera, cari spera, che sia una buona sera. Lotta, lotta, salta, salta, tiro, 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 ratti, ratti, amo, 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 amo. A signor, che è un po' di situazione. Che ci avena questi atleti, sono le più corventi, sono i pericolari e campioni. Lasciate che si allenano, lasci, lasci sotto Stova e sincerato, incendendo in queste sfide, ci metterò la bocca di girata corredore. Il primo posto è quel grosso che vincolo, chi vinta il cuore diventerà un punto in dito. Calibera e Calispera, questo è quello che si vince, Calibera e Calispera, solo chi se l'è la vince. Calibera e Calipitous Grazie a tutti. Grazie a tutti.